La centrale SNAM non può essere autorizzata senza il decreto di pubblica autorità. E quando fa notare Maria Crotilde Iavarone, presidente di Orsa Pro Natura Pelinni, alla vigilia della conferenza dei servizi che siederà domani presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Il decreto di pubblica autorità è emanato il 10 dicembre 2010, dietro istanza dell'8 aprile 2009 con la quale la SNAM Rete Gas aveva chiesto ai sensi dell'articolo 52 del testo unico il rinnovo di pubblica autorità dell'opera non è valido per ottenere l'autorizzazione alla costruzione della sola centrale. fa notare in una nota l'associazione. La SNAM Rete Gas, in data posteriore a quella del decreto il 21 giugno 2011, inoltre aveva una dichiarazione nella quale ribadiva che l'opera in progetto parte di una più ampia dorsale denominata rete adriatica, avende valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale e aggiungeva che il metanodotto su Mona Foligno avrebbe permesso di magliare la rete dei metanodotti delle regioni attraversate collegandole al sistema di importazione dal Nord Africa. In tale ottica si inserisce il programma di dare avvio anticipatamente rispetto al metanodotto alla realizzazione della centrale di compressione gas sul Mona e delle quattro linee di collegamento alla rete gas esistente al fine di assicurare la tempestività dell'aumento di capacità di trasporto per gli ulteriori quantitativi di gas naturale disponibili in corrispondenza del campo di stoccaggio di Fiume Trieste, il comune di San Salvo, già collegato alla rete nazionale dei gasdotti, mediante gli esistenti gasdotti, vasto girare di San Salvo e campo chiaro sul Mona. La SNAM rete gas avrebbe dovuto chiedere al Ministero dello Sviluppo la pubblica utilità per la costruzione della sola centrale di Sul Mona, in quanto le finalità non erano più quelle cui la centrale metanodotto Sul Mona Foligno aveva ottenuto il degreto, tuona la Iavarone. Secondo Orsa Pronatura è spiegabile come Ministero dello Sviluppo abbia voluto avallare la richiesta considerato che la finalità della centrale è stata completamente stravolta, non più funzionale il metanodotto di cosiddetta valenza strategica. Secondo Orsa Pronatura è spiegabile come Ministero dello Sviluppo abbia voluto avallare la richiesta considerato che la finalità della centrale è stata completamente stravolta, non più funzionale al metanodotto di cosiddetta valenza strategica, essa avrebbe avuto funzione di smaltimento di gas di stoccaggio.